Saluti! Io mi chiamo Dmitri. Io vengo dal Ucraina. Vivo in Kyiv. Sono un avvocato. Il mio hobby è studiare il mio dioevo. Sono stato in Italia una volta e mi sono innamorato molto di lei. Ho pensato perché Dio ha inventato il paradiso se c'è l'Italia. Poi ho iniziato a imparare l'italiano. Mentre parlo molto poco, ma spero impararlo presto. Spero anche nel vostro aiuto. Voglio avere un videoblog in italiano. Vorrei parlare di me, dell'Ucraina, della Russia e delle mie impresioni su Italia e italiani. Ciao! Ciao!